ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video tutto tech oggi vi presentiamo un prodotto che non è anche questo in commercio ma chiede secondo me delle grosse potenzialità come avete letto nel titolo apple ha brevettato un cinturino e deciderete voi di che colore vorrete il vostro cinturino come funziona piccole scariche elettriche verrà attraverseranno il vostro cinturino è composto di un materiale elettro cronico e questo farà sì che il cinturino cambi colore questa funzione naturalmente è stata giustificata da apple per far sì che le persone non comprino continuamente cinturini nuovi perché ci sono alcune persone per l'amor del cielo ognuno può fare quello che vuole che in base anche al tipo di abbigliamento che hanno vogliono un cinturino adeguato il quadrante dell'apple watch già si può tranquillamente modificare quindi il connubio di queste due cose farà sì che per quelle persone che sono attente alla monocromia o comunque che abbiano intenzione di avere sempre tutto in coordinato vengano soddisfatte questa funzione comunque già nel 2020 venne utilizzata da concept one di oneplus inserendo questa tecnologia nella parte posteriore della cover questo faceva sì che si potesse abilitare o disabilitare per poter rendere visibile la fotocamera posteriore o meno ma tornando al cinturino quando uscirà beh per adesso sappiamo solo che è stato depositato il brevetto e si spera che abbia anche uno sviluppo futuro perché purtroppo a volte non solo apple ma tante case depositano tanti brevetti ma rimangono lì nel cassetto in attesa magari che il mercato si muova in quella direzione sperando solo che questo non rimanga un'idea e basta ma che secondo che venga messa anche in commercio io direi che per questo video è tutto ci vediamo al prossimo ciao ragazzi ciao